Si può fare festa in piazza come nell'occasione di questa festa di San Martino rispettando però le regole, appositi steward a vigilare mascherine e distanze. La festa è organizzata benissimo, infatti nel pieno rispetto delle normative, ma quello che conta è che ricominciamo dopo un anno di interruzione, ricominciamo con una sorta di normalità, che già questo è un bello obiettivo perché riprendiamo quello che era stato lasciato nel 2019. Quindi io ringrazio veramente tutti gli esercenti, tutti gli imprenditori che si sono messi in gioco per dare un tocco di qualità a questa manifestazione che riprende il territorio, la tradizione del territorio, i prodotti del territorio, il chilometro zero. E quindi è una festa tutta da vedere. Io allargo l'invito ovviamente anche ai cittadini di Trieste, a quelli della vicina Slovenia. Inaugurata oggi, giovedì 11 novembre, a Muggia, la festa di San Martino e antichi sapori d'autunno. Fino al 14 novembre, in piazza Marconi, sarà allestito il villaggio di San Martino con prodotti tipici, degustazioni, mostre e varie attività ospitate nelle tradizionali e suggestive casette di legno. Intanto si potrà trovare un momento di convivialità e di condivisione che ci mancava da tanto, tanto tempo. 12 casette, 11 espositori, un'associazione, tanti amici anche della Slovenia che sono qui ad offrire i loro prodotti e la loro allegria. L'evento, organizzato dal comune di Muggia, è stato realizzato grazie al supporto tecnico della ditta Flash, che ha curato gli allestimenti.